Il bilancio partecipativo è un momento decisionale di pratica democratica. Consiste in un'apertura dell'amministrazione rappresentativa all'effettiva partecipazione della popolazione nell'assunzione di decisioni su alcuni ambiti della spesa collettiva della propria città. Bilancio partecipativo. I cittadini di Pavia e gli studenti universitari potranno presentare idee e progetti. Attraverso gli incontri che faremo, attraverso la consultazione online, attraverso altri incontri di valutazione, noi chiamiamo i cittadini a dire la loro. Dire la loro sulle idee che hanno per la città. Entra un budget che abbiamo definito e che sull'arco di tre anni, vi ricordo, arriva a un milione di euro, quindi non è una cifra piccola. Li invitiamo a dire, a pensare, a immaginare qualcosa di realizzabile, di coerente col programma di mandato e quindi di farci arrivare le loro idee. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni, e anche agli studenti universitari fuori sede, che quindi sono domiciliati a Pavia ma non residenti, perché comunque la città è anche la loro. Per la prima volta a Pavia si parla di bilancio partecipato. Sì, è la prima volta, sarà un'esperienza sperimentale, nel senso che, come tutte le prime volte, verificheremo sul campo cosa funzionerà oppure no. È un tentativo per accorciare la distanza tra il cittadino e il palazzo. Speriamo che i cittadini sappiano cogliere l'opportunità e ci sommergano di idee e iniziative. State tranquilli, ne faremo buon uso.